In questo episodio la vostra detective Ramona ha inchiodato il colpevole. La fioraia. Erika, del negozio di fiori. Ha indovinato il colpevole. L'ho dedotto. Piero è scomparso dalla notte scorsa e in più è indagato per rapina a mano armata, guida spericolata e danneggiamento di beni altrui. Su le mani, giù le armi. Su le mani, sì ma pure giù le armi, scusa. Su le mani. Piero, non c'entra niente. Dobbiamo trovare Marta. Guardate cosa ha trovato. Quella gente è pericolosa, lo capisci? Quella gente che lo scherza. Lascerà andare. T'ho detto che non posso fare troppe cose ormai. Allora stai nei guai. Aprite, polizia. Cos'è? Questa storia non mi piace. Quelli stanno nei guai e non c'è tempo per le tue solite seghe mentali. Mi dispiace, parola. Andiamo, 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 ragazzi! Gesù Giuseppe Maria, Gesù Giuseppe Maria. Spesso ti dicono che sei sbagliato solo perché sei diverso da come ti aspettavano tu fossi. Ma che è una mutanda? Non c'è nulla che una buona indagine non possa risolvere. Che mestiere infame. Ragazzi, è giusto il momento! Sì! Andate, andate, andate! Andate, andate! Grazie a tutti